Titoli interessanti ce ne sono tanti, a partire secondo me da Azimuth, ci sono alcuni titoli che hanno già corso tanto, tra i quali Ferrari che è stata citata, quello che ha corso più di tutti, secondo me è un titolo ancora interessante, ma nel breve potrebbe stornare per delle prese di profitto dovute proprio al fatto che ha corso veramente tanto, ce ne sono alcuni che sono ancora ottimamente impostati, leggermente più indietro rispetto alla corsa che ha fatto Ferrari, uno è Azimuth, anche qui c'è un ipercomprato di breve indicato dall'RSI che è toccato di 82,88, quindi anche in questo caso ci potrebbe essere una piccola correzione che ci riporti a ritestare i 25 Euro, però credo che Azimuth sia un titolo da mantenere nella propria watch list, i 25 Euro potrebbero essere se ritestati, un'opportunità di acquisto per chi invece non ha ancora cavalcato il rialzo che è stato messo a segno da questo titolo anche nelle ultime settimane. settimane, altrettanto interessante credo che sia rimanendo nel settore Fineco Bank, Fineco Bank eccolo qua sul grafico settimanale, vediamo come il titolo sia pure ottimamente impostato, abbia ritoccato i massimi anche nella prima giornata di contrattazione di questa nuova settimana e mi aspetto che il titolo possa continuare a fare bene anche nelle prossime settimane. titoli ottimamente impostati ce ne sono davvero tanti, c'è solo l'imbarazzo della scelta.